Qui l'Aquila Travel and Experience, seconda edizione dell'iniziativa dedicata al turismo, organizzata dal Comune, alla presenza della stampa specializzata di settore che ancora una volta è presente all'Aquila per valorizzare identità, storie e peculiarità della città rinata. A salutare i giornalisti che si occupano di turismo nelle loro testate nazionali e internazionali, il Sindaco Pierluigi Biondi e l'Assessore Ersilia Lancia in Piazza Duomo, centro storico per loro ma anche la zona di Campo Imperatore, tradizioni, specialità enogastronomiche, il tutto per lanciare ancora di più l'Aquila come destinazione. Una città in crescita, una città in rigenerazione, una città che quotidianamente trova il senso del suo essere comunità e lo fa attraverso le attività culturali, attraverso la vivacità dei luoghi, delle associazioni, degli ordini, come capita questa mattina. Noi vorremmo raccontare questa bellezza, la bellezza dell'Aquila, la bellezza del circondario e chiedere a chi la conosce per la prima volta di raccontarla a sua volta per generare un circuito virtuoso che porti l'Aquila ad essere definitivamente una città d'arte e di turismo. Qui l'Aquila Travel and Experience torna in questa seconda edizione e l'abbiamo voluta declinare con questo press tour. Quindi giornalisti, giornaliste che arrivano da testate nazionali importantissime, TGCon24, dove, Ayrone, solo per dirne alcune. Perché questo? Perché adesso siamo impegnati nel raccontare una, l'Aquila, oltre i nostri confini, una città che è in netta ripresa, una città dove si vive, dove si studia, dove ci si forma, è una città che si può visitare. Questo è lo sforzo di amministrazione che dobbiamo fare adesso in questo momento. Non è stato trascurabile però la prima giornata, nella quale, lo ricorderete, abbiamo avuto un momento di formazione e questo anche sul suggerimento dei nostri operatori turistici che sono sempre a lavoro e con i quali c'è un dialogo. Perché in questo momento lo sforzo che dobbiamo fare sul turismo all'Aquila è quello di fare rete tutti quanti per lavorare finalmente alla costruzione di quella che i tecnici definiscono la brand reputation.